Salve a tutti ragazzi e riaccoci qui in questo nuovissimo video, no no, non vi preoccupate che non andremo a prendere nessuna maschera dei sacerdoti del drago, no no. Allora, perché in questo luogo? Perché dobbiamo dirigerci al labirintial, mi è stato veramente tanto richiesto di farvi vedere il labirinto di Shalidor, dove ottenere alla fine il diadema dell'intellettuale. Allora, dobbiamo dirigerci al labirintial, come state vedendo qui sulla mappa, nel video. Allora, mettendovi nella parte centrale, dove sto io, su questa zona dove sotto ci sta il monumento delle maschere dei sacerdoti del drago, ci sta questo monumento, questa entrata, così trionfante, voi proseguite, ci sarà questa porta per il labirinto di Shalidor. Una volta entrati, arriverete in questo punto, dove c'è un corpo bruciacchiato con una gemma dell'anima minore e un fogliettino che vi aiuterà, però ci sono io. Allora, il primo bastone, luce magica, repulsione, poi abbiamo quello di paura e infine quello dei dardi di fuoco. Ci serviranno tutti, infatti il nostro primo bastone da utilizzare è luce magica. Se ci fate caso, ogni bastone è uno per alterazione, uno per distruzione, uno per illusione, uno recupero. Quindi voi dovete andare a vedere tranquillamente il simbolo e utilizzare l'apposito incantesimo, come ora il dardo di fuoco. Noi scendiamo a questo punto, arrivati a questo bivio, in questa cantina, dobbiamo andare a destra, si aprirà magicamente questo portone, saliremo queste scale e ci troveremo davanti a una piccola cascata, un ruscello che cola. Allora, riandare a sinistra e ora a questo bivio di nuovo a sinistra. Qui, per chi si ricorda e per chi mi ha seguito da tantissimo tempo, qua già avevo mostrato questo punto perché per prendere la parola del potere, fuga dell'urlo, sgomento. Ora ve lo faccio rivedere, quindi qui potete prendere anche una parola del potere per l'urlo. Allora, poi, alle vostre spalle, alle spalle dell'urlo, di fronte, ci sta la seconda parte e utilizzeremo qui il bastone della paura. E infine dovremmo utilizzare il bastone della repulsione, eccolo qui. Allora, ora voi vi chiederete... Vabbè, intanto vi dico che dovete scendere e troverete una sfera, una sfera che ci dovete entrare dentro, che vedrete tra pochissimo. Allora, io mi sono impugnato di nuovo il dardo di fuoco, per il semplice motivo. Allora, io già avevo provato ad uccidere questo Dremora con il pugnale, l'avevo ucciso in un colpo ed ero rimasto bloccato in questo luogo. Quindi mi raccomando, non uccidetevi in un colpo perché dovete levargli un po' di vita in modo tale da arrivare e ritornare qui. Allora, qui lo potete tranquillamente uccidere, lui evocherà un altro Nack della Fiamma e uno della Tempesta. Voi pensate prima a lui, oppure vedete voi come vi è più comodo svolgere questa, chiamiamola, missione. Allora, voi tranquillamente uccidete questo Dremora. Dremora, uccidete poi l'adrona della Tempesta e della Fiamma per poi andare a prendere il diadema. Dell'intellettuale, cosa fa? Gli incantesimi di tutte le scuole richiedono meno magica. Eccolo qui. Me l'avete chiesto e l'ho fatto. Quindi mi raccomando, scrivete in un commento cosa volete che faccia nel prossimo video. E quindi ci si vede al prossimo video, alla prossima guida. Ciao! Mettete mi piace, mi raccomando. Ciao!